Come temevo? Non ha arretto e si è suicidata. Ci penso io. Stanno morendo tutti, uno dopo l'altro. Ah, e finalmente lo ammetti. Non li troveremo. E che ci vuole? Ma questo sì. Mucca sui binari? Salve a tutti e bentornati a Let's Play The Walking Dead, episodio 3. Vogliamo finire questo maledetto episodio 3? Non fate caso al salvataggio, ho appena fatto una prova per vedere se registrare senza problemi. E non fate caso ai bombardamenti, che potreste udire. Ma come ben saprete, io vivo in una regione in guerra. Sì, beh, stanno sparando dei fuiti artifici per qualche ragione a me ignara. Comunque sì, ci manca l'ultimo capitolo di questo episodio. L'ultima volta dovremmo aver tagliato i capelli a Clementine, se ben mi ricordo. Sì, infatti, possiamo vedere i risultati. E apparentemente siamo alla nostra destinazione. Che non sembra essere gradita da Kenny. Ben, sei un coglione. Poveracci. Non ho mai molto esperienza con voi, ma potremmo potremmo affrontare con questo. Abbiamo un treno. Una cosa che non è piena di milano, Charles. È gas, o diesel. Algo che va a esplodere. Ehm... You gotta get a hold of yourself. This is a crew here. This ain't shit. This... Yo, you keep screaming like that and you're gonna get your face chewed off. Chi? Chi? Chi sono nuovi? Chi siete? Good point. You guys got a problem with your train? Yeah. You're standing right in front of it. Dude, it's a wreck. It's not so bad from up here. Send your buddy up to have a look. Anything goes sideways up there. We won't let them escape. Sì. Forza. Ehm... So parlare con Kenny, ma non mi interessa. Sono... Sono curioso di sapere chi sono queste persone perché... Mi fanno... Cioè... La prima impressione... È quella di... Di personaggi amichevoli. Sì, dovrò scoprirlo. This is what we need. There what you think we need. We're doing fine. For now. What about when... Stop it. Hey, dude. I'm Omid. Lee. Christa. Want to deal with the train? We're driving it. Oh, man. Eh? Oh, questo è bello! Vedi? Ci sono le cose che si guardano. Sei non il padre. Sei là? È così ovvio? No, non è là. Qual è la tua storia? Sono sincero perché di fronte a lei almeno. È vero, è vero, è vero. Hai avuto alcuni tassi di prison? Ah, sì, non è così farlo. Cioè, a quello che gli ha detto, guardate, io sono uno, stavo andando in galera, perché ero stato arrestato, la prima cosa che gli viene da pensare, giustamente, è se si è fatto dei tatuaggi. Ben is the youngest stupid. Kenny ha perduto la sua voce e il figlio. Oh, no. Allora, se ho ben capito la nostra... il piano è quello di spingere questo camion per poi vedere... cioè una volta che è giù in strada il problema è relativo. C'è un altro generatore? Vediamo se possiamo fare casino con questo o no. Qui? Beh, potrei dare un'occhiata, no? Roba di dubbio utilità. Beh, ma possiamo interagirci? Più che altro è l'unica che ti entra in tasca. Clementine. Non ci posso parlare con te. Vabbè. Omid e Krista. Questi non credo ci fossero nel telefilm, quindi... Proprio roba nuova. No. Ah, sì, ho capito cosa intendi. Questo è super allegro e lei invece è un attimino più... controllata. No, niente. Non c'è nessuno più ampio da nessuno di un'altra parte qui. Ah, sì. Cioè, sganciare il vagone è una bella idea. Quello che ho raccolto penso fosse del nostro isolante. Ok, scendiamo nuovamente. Eh, ve l'ho detto, non sono proprio di buon umore. Questi due si stanno unendo a noi. Sì, ma questi mi fanno una buona idea. Cioè, mi fanno una buona impressione. Vuoi start in on that tanker? I'll get to know the girl for a minute, if you don't mind. Il volto della depressione. Ne ha tutte le ragioni, eh? Comunque, come si chiama? Già mi sono scordato di... Allora, uno era tipo Omar. Già mi sono scordato di... Comunque, la donna vuole conoscere Clementine perché chiaramente pensa... Se questi c'hanno qualcosa che non va, sarà la ragazzina a farmelo sapere. Questo suona. Uno che suona nel gruppo ci vuole. Direi... Che è una necessità. Omid. Ma che cazzo di nome è Omid? Ti potevi chiamare Omar. Non so cosa fa ancora, non toccarlo. Certo, ma certo. Non toccarlo, jackass. Coglione. Non toccarlo e... Non tirare, e io tiro. Quindi. Come? Omid. Come hai fatto così farlo? Tu sembi dangerosamente normal. Trista non bioste uscire un gruppo. E io sono un f***o scrappero. Ho sentito che lei prende te. Por favor. Mi ha salvato l'occhio di cento. Tent. Somet... Eh. Come? 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 Scusate il silenzio ma ho approfittato per reidratarmi A questo gli interessa guidare il treno chiaramente E vede il lato divertente della situazione Io non ho voglia di parlare con Kenny ma... Mi sa che è quello che sono... Ma tu sei lì di vedetta? Ehi, come stai lassù? Sì, aspetta e spero Tu non lo sai com'è un apocalisse zombie, o sì? Esatto Ma l'hai capito allora? Soprattutto E soprattutto Non fare stronzate di nuovo Maledizionate Praticamente Per colpa sua ho perso entrambe le donne del gruppo Questa è... Cioè, a parte Clementine ma... Non è adatta alla riproduzione Non ancora almeno Ehm... Vabbè, c'è questa che magari... Ma magari... Però sembra... Già impegnata Cioè, lo capisco Ehm... Ha dovuto Ehm... 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 Non l'ho capito... Non l'ho capito... Dice... Dice... A chi interessa la guerra civile... Forse... A lui e all'altro interesse... Oh, vabbè... Di che cosa stavate discutendo? Niente Privato Cioè... Stavolta... Sono loro che non si fidano di noi Non ne dubito... Non ne dubito... Clementine come della passi... Eh... Ma... Certo... Ehm... Già... Non ne dubito... Clementine come della passi... Eh... 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 Ok si ha alleggerito un pochettino... Ehm... Si ha alleggerito un pochettino il tono del... Della situazione... Sì, a lui piace rompere cose, quindi parliamo con lui, con l'uomo dallo sfortunato nome di Omid. Sei di nuovo spuntato. Si era materializzato dal pavimento. Con Ben ho parlato, con il suonatore non posso parlare perché giustamente sta suonando e con le donne ho parlato e aggrapparmi a questo dubito porterà a qualche risultato tangibile. Io non so come funzioni, però non mi sembra l'idea migliore appunto di passarci attraverso col treno. Devo starlo a dire. Ok. Uh, stazione dei treni. Strano comunque. Cioè, quest'ultimo capitolo sta durando più di quanto... Cioè... Puh, non so più cosa aspettare. Survivors Inside. Non... Magari no. Cioè, magari non più. E c'è scritto... La pubblicità è... È abbastanza inutile di questi tempi. Vernice. Ok, quindi... Temo che non ci sia nessuno allo stato attuale. Ma... Di qua non si può scendere... I cartellini non li possiamo esaminare. Ok, Clementine... Sì, Clementine. Clementine. Oh, qui c'è un altro cartello che... Ah, grande! Così ho capito da dove dovevo scendere perché mi c'era un po'... Sì, ma questo cartello mi sa che è antecedente, no? L'Apocalisse Zombie. Clementine, non cacciarti nei guai. Eh. Ci sono... Ci sono... Gli infetti all'interno. Gli infetti, gli... I walker... Gli ambulanti, ecco, come li chiamano nel telefilm. Clementine. Sì, sei d'accordo, allora. Non lo vedo in là. Perché è barricato, non puoi vedere. Ovviamente è anche chiuso. Quindi dovremmo sfonderlo. Hmm, ma... No, non funziona così, semplicemente. Dobbiamo provare un sistema alternativo. Hmm, un forklift. Questo non so come si traduca in italiano. Tipo un muletto. Mi pare che lo chiamassero muletto in Grinfandango. L'enigma del muletto di Grinfandango. Una cosa tremenda anche perché ci aveva... Buggava. Cioè, nei sistemi operativi più recenti bugga. Perché la... Piccola parentesi, va, ormai ho iniziato il discorso. Cioè, questo enigma su un ascensore, questo ascensore si muove a una certa velocità. Ma nei sistemi operativi più recenti questa velocità è più elevata della norma. Dunque, noi non abbiamo fisicamente il tempo di fermare l'ascensore come l'enigma richiede. E questi sono i bruttissimi ricordi che vedere un forklift mi causa. Crementine. Sì, però dai un'occhiata senza entrare, magari. Cioè, potresti dare un'occhiata. Se è sicuro... Allora, intanto cosa vedi? Cioè, potresti dare un'occhiata o trovare un modo per spettare questa porta. Kenny probabilmente mi ha chiesto un'occhiata. Che, in realtà, potrebbe funzionare, ora che abbiamo il tempo. Cioè, credo che l'ho ottenuto. Per vero? Credo che così. Come hai fatto dall'alto? Come hai fatto? Cioè, quale meccanismo? Sì, ma tu stai dietro.